Caselle torinese, proponiamo villa libera sui tre lati, una porzione di quattro villa schiera, ci troviamo in via Gandhi, disposta su quattro livelli, composta da sala con camino a legna, cucina più che abitabile con balcone, anche la sala ha un suo balcone e bagno. Andiamo a vedere la zona che rimane praticamente al piano terra, livello giardino, che è la taverna. Abbiamo un box auto doppio con due basculanti, quindi sul largo, comodo per poter mettere due auto marito e moglie. È un locale lavanderia utilizzato anche come deposito. Come vi dicevo, da questo piano, che tra virgolette dovrebbe essere la tavernetta, invece abbiamo il livello strada. L'immobile è dotato di pannelli solari. E qua ci troviamo al primo piano, primo piano dove troviamo un altro bagno. La prima camera da letto. Disposizione dell'area di manovra con il passo carraio. Il muro che vedete divisorio tra questi due vani è un muro che volendo si può, ecco un perimetrale, quindi volendolo si può buttare giù e creare piuttosto una stanza più grande, o comunque si può apportare una modifica in caso di necessità. Quindi abbiamo visto la seconda camera, vediamo la terza. Entrambe le camere hanno l'esposizione su questo balcone, dal quale vi riesco a far visionare bene, adesso essendoci cani, il giardino. Quindi ci sono queste scale che ci consentono di entrare da porta blindata e invece subito sotto questa capottina che vedete troviamo la porta per accedere alla taverna. Essendoci cani il giardino ovviamente è rimasto più come terra che come erba verde e questo è la fine del giardino dove poi i proprietari hanno deciso al fondo di creare un orto. Vediamo ancora la mansarda, locale di sgombero non abitabile, dove ci troviamo comunque due vani adibiti momentaneamente a grosso ripostiglio, il primo è il secondo. Qui è stato appena sostituito il Velux con tapparella e questo è quanto.